Amici di A tutta Uispe, dal campo comunale sterrato Ignazio Rù di Villa Sor, siamo qui per la decima giornata di campionato, amatori over 43 tra la futura 2000 Villa Sor, che giocano in casa e ospitano il Nuri. Qui davanti a noi c'è il direttore di gara di questa partita, lo conosciamo? Sì, io mi chiamo Lindoro Lalli, faccio l'albitro da quando ero piccolo, diciamo così, però lo faccio con una passione perché mi piace anche praticare sport, è un modo diverso per stare in mezzo alla gente e basta. Lindoro, un nome e un cognome che sicuramente non sono sardi, da dove vieni? Io vengo dalla provincia di Verbagna sul Lago Maggiore, sono qua per lavoro e mi sono portato dietro alla mia passione. Che è l'arbitraggio. Ascolta, quali differenze hai trovato tra il Piemonte e la Sardegna in questa passione, diciamo così, rinnovata? No, devo dire che con la Uispe mi sono trovato, anche con i corsi di formazione, mi sono trovato molto molto bene, devo dire che ho imparato tanto e spero di metterlo in pratica quello che mi hanno insegnato. Dalle prime esperienze, come ti è sembrato il calcio? Il calcio è abbastanza agonistico, ci sono buoni livelli di gioco, questa qui è la terza partita, però posso dire che sia l'over 43 che l'over, ci sono delle belle partite dove bisogna impegnarsi e non sottovalutare niente. Sei stato anche atleta in passato? No, io ho sempre fatto l'arbitro, ho fatto 20 anni in FIGC, 22 anni in CSI e adesso sono qua, farò questa esperienza. E hai avuto un maestro, nel senso che ti hanno accompagnato per diventare arbitro, suggerito, aiutato, oppure è una cosa che ti è venuta spontanea e hai seguito questo percorso? No, no, è una cosa che mi è venuta spontanea, nessuno dopo, con i commissari che ho sempre avuto, ho corretto tanti difetti e magari anche tanti pregi, possiamo dire così. C'è sempre, ogni partita c'è una sua storia. Sì, a proposito di storia e di partita, hai degli amuletti, hai dei gesti che ripeti prima delle partite, anche un po' scaramanticamente, oppure non sei di quelle persone che sono attaccate a questo genere? Scaramatico, però mi piace sentire, quando entro in campo, sentire il pallone, sentire anche l'odore, se ce l'ha, adesso se il pallone è nuovo, se il pallone è seminuovo, però è un mio gesto così. Ti emozioni facilmente prima delle partite? Sì, no, di solito la sento, poi dopo nel momento in cui fischio mi rilasso e vado via, tranquillo. Una partita è uguale all'altra? Sì, no, non direi così, che sono una uguale all'altra, sai, però una partita è sempre diversa dall'altra, sicuramente. Va bene, Lindoro, allora, in bocca al lupo per questa partita, quella di oggi. Buona permanenza in Wisp, visto che ci hai detto che sei da poco, diciamo così, entrato in questa famiglia. Speriamo che ci rimanga tanto, tanto, tanto altro ancora. Ci rivediamo presto in altri campi della Wisp. Salutiamo i nostri amici che ci stanno ascoltando. Grazie, buona serata. Ciao, ciao, ciao.